Musica Al cimitero di Palermo non c'è più spazio per nuove sepolture, una donna è costretta a tenersi in casa la bara con la madre, morta da diversi giorni. La denuncia del terribile fatto arriva dalla signora Giusy Lamantia, che dopo una prima richiesta di tenere la bara in casa, ora è esasperata. Come ha rivelato lei stessa il giornale di Sicilia, infatti la situazione è andata avanti molto più del tempo previsto e sono ormai oltre dieci giorni che la bara resta ferma in salotto con tutte le conseguenze del caso. Mia mamma è deceduta nella notte del 19 febbraio, abbiamo subito avvertito l'impresa funebre per l'organizzazione delle esequie e non ci saremmo mai aspettati che potesse succedere una situazione come quella che stiamo vivendo, ha denunciato la donna. Grazie per la visione!